Campania, il vivido mosaico delle bizzarrie, di Stefano Piedimonte. La Campania è un territorio non soltanto enorme, ma così diverso al suo interno, così contraddittorio fra una provincia e l'altra, fra una città e l'altra, ma anche semplicemente fra una strada e l'altra, che raccontarla in un'unica soluzione, fosse anche un romanzo di mille pagine, è un'idea balsana. Ne verrebbe fuori un mosaico di tasselli stonati, un rosso sbiadito preso a Pompei dalla Villa dei Misteri, un azzurro screziato di verde preso dal mare di Massa Lubrense, uno nero polveroso che vira al cinereo raccolto dalla cima del Vesuvio, un altro verde come una bottiglia, ma forse non proprio, forse non è il paragone più azzeccato. Il verde che ci serve qui non è un verde riflettente, ma immersivo, non riflette, risucchia. Questo tassello dovremmo raccoglierlo nel parco degli astroni. Poi eservirebbero altri porousi e amorfi, come i tartufi che stanno sepolti nel casertano. Altri ancora sarebbero marroni, come il cuoio, o come la cappella dei porcini che trovi nei boschi a Benevento. Ancora tasselli di pietra durissima, come il marmo addomesticato da San Martino nel suo Cristo velato. Tasselli biancolatte, come la mozzarella pannosa che trovi solo dalle parti di Eboli, Pestum, Capaccio, e che devi far presto a comprarla, perché finisce subito. Dalle bufale non si può pretendere più di un tot di latte al giorno, se non vuoi strizzarle come spugne vecchie. Le mucche regalano latte, le spugne colano l'erciume. Poi servirebbe un tassello meticcio e caciarone, come le punte dei palazzi che scorgi a Napoli dal ponte della sanità. L'impossibilità di imbrigliare tutta questa materia, di mettere insieme tutti questi tasselli ottenendone qualcosa di omogeneo, è sancita dalla frammentazione delle nostre menti di campani. La disputa fra i napoletani e i salernitani, fra beneventani, casertani e avellinesi, è reale e sacrosanta. E non perché uno sia migliore dell'altro, ma perché veniamo da mondi distanti. Un napoletano sta a un salernitano come un vietnamita sta a un indiano. La globalizzazione qui non ha attecchito. E quindi? Di cos'è che vogliamo parlare? Sono nato all'ultimo piano di una palazzina affacciata sul mare di Bagnoli. Quando uscivo sul balcone, sopra la testa avevo un cielo azzurrissimo, davanti agli occhi gli scocci imbellettati di un nastro bianco di schiuma salata, e poi mare a perdita d'occhio. Quando uscivo di scuola, attraversavo la strada con lo zenetto in spalla ed ero in spiaggia. Se ci ripenso, capisco bene perché poi la vita si sia rivelata un cumulo di frustrazioni. Alcune promesse sono difficili da mantenere. Già intorno ai dieci anni, certo non per mio volere, la mia famiglia si trasferì a Forigrotta. E devo dire che quella fu una mossa diabolica. Per una famiglia che non ha mai amato il calcio e che si ritrovò a fare i conti ogni domenica con un'orda di tifosi in auto, in moto, appiedati in squadroni svolazzanti di bandiere azzurre che si recavano in processione allo Stadio San Paolo. Gli anni dell'adolescenza li ho trascorsi al Vomero, il centro commerciale naturale di Napoli, come si dice oggi. Fra sbevazzate e fancazzismo protratto fino a tardanotte. Ma una delle esperienze più indimenticabili con gli amici vomeresi ebbe luogo nello stretto di Barba, sul confine fra Ceppaloni, provincia di Benevento, e Chianche, provincia di Avellino. Era il periodo in cui mi appassionai blandamente all'occultismo. Alcuni siti internet ubicavano la posizione del Noce, il famoso albero sotto il quale si riunivano, stando alla leggenda, le Ianare Beneventane, proprio nella fitta boscaglia dello stretto di Barba. Ebbene, i miei amici ed io, sull'onda del film da poco uscito nelle sale, The Blade With Project, decidemmo di trascorrere una notte nei pressi del Noce. Il nostro obiettivo era quello di ammazzare le streghe, che eventualmente si fossero presentate, debellando la piaga una volta per tutte. Portammo con noi alcuni coltelli, ufficialmente per farci strada fra i rovi, in realtà volevamo usarli per trucidare le Ianare. Non avevamo la stoffa per dormire nei boschi, come iniziamo a capire sul calar della notte, quando gli urlati dei lupi e i versi strampalati degli animali più improbabili invasero la radura dove ci eravamo accampati. Va detto che anche la nebbia, per noi, era cosa insolita. Verso sera si levò un mantello di fumo densissimo, che si spessiva ogni minuto di più. Il bagliore del fuoco che avevamo acceso per riscaldarci, dapprima possente, sprofondò man mano nella cortina di nebbia riducendosi a somigliare a una lucina da lettura. Anche recuperare altra legna per alimentarlo diventò un problema. Nessuno di noi osava dirlo, ma ogni volta, quando ci alzavamo a due alla volta per raccogliere i rami, tremavamo dalla paura. Con nostra somma delusione, di strega non ne apparve neanche una. Apparve però un cacciatore. Verso le cinque del mattino, mentre la nebbia era ancora alta, e noi idioti abbrustolivamo carne su fuoco in un virile tentativo di colazione. La sagoma di questo signore si fece strada poco a poco. Aveva un fucile in spalla. Noi, che ancora speravamo fosse una ianara, avevamo invece le mani strette intorno ai coltelli piantati nel terreno. Ci mancò poco che lo accoltellassimo o che lui sparasse a noi, con esiti più certi nella seconda delle due ipotesi. Ci disse che aveva visto un'auto, quella di mia madre, che avevo preso a prestito, poco fuori dalla boscaglia, davanti alla chiesetta sconsacrata che apriva il sentiero e che aveva immaginato possibili sciagure. Gente che si fosse persa nello stretto. Scenari di questo tipo. Beh, non c'eravamo persi. Stavamo solo aspettando le streghe. A mattino inoltrato, ormai certi dell'assenza di ianare, ci abbiamo con le scarpe e i pantaloni coperti di fango a casa di una nostra amica a San Lorenzello, nel Beneventano, dove preparano degli ottimi taralli. La sensazione che i suoi genitori non utrissero grande ammirazione nei nostri confronti sfiorò tutti noi. È in Costiera Amalfitana, invece, che mi colse la prima volta l'idea di scrivere un romanzo. Ed è per questo che sono molto molto legato ad Amalfi, alla cattedrale di Sant'Andrea, conosciuta come il Duomo, e alle sue cinque navate, che già in sé regano il germe dell'ibridazione, essendo la summa di due chiese preesistenti. Fino al giorno in cui mi registrai in un alberghetto al centro del paese, avevo avuto come una sorta di imbarazzo al pensiero di scrivere i dialoghi. Una storia, tanto quanto, mi sentivo in grado di raccontarla. Per una decina d'anni avevo svolto l'ingrato mestiere del giornalista, quindi, in fatto di storie, potevo dire la mia. I dialoghi, però, erano il mio cruccio più grande. Mi domandavo come si potesse restituire dalle pagine di un romanzo il parlato naturale di un gruppo di individui. Temevo di risultare affettato e fasullo. La donna che presideva alla reception, tuttavia, mi suggerì un'ipotesi che si incuneò nel mio cervello e lì rimase. Era anche proprietaria e tuttofare dell'hotel e aveva un modo di esprimersi che non teneva in alcun conto quelle che all'università avevo studiato come implicature conversazionali di Grice, le regole elementari che si leggevano sul cosiddetto principio di cooperazione. Se io ti domando dove stai andando, tu non puoi rispondermi mangio cipolle. Come dire, bisogna collaborare, impegnarsi almeno un minimo perché il dialogo sia in qualche modo produttivo. La signora, invece, al mio buongiorno rispondeva a che ora e andava a spulciare la lista delle prenotazioni. Al mio sa che ora chiude la trattoria? Rispondeva è là, si mangia bene. Mi convinzi allora che non c'era alcuna verosimiglianza da restituire. Noi umani siamo assai poco verosimili. Il nostro modo di parlare e di atteggiarci segue dei flussi che non hanno a che fare con la logica ma con altre dinamiche. Quindi, amen, cominciai a scrivere senza pormi più troppi problemi, almeno per ciò che riguardava i dialoghi. se esistono posti da guardare con lentezza e posti da macinare con le ruote di un'automobile, Amalfi e tutti i paesini del circondario appartengono alla prima categoria. Come Sorrento, d'altronde, che sta proprio dall'altra parte di quella punta simile a un grilletto di pistola o come l'unghia di un dito che punta verso l'isola di Capri. Le ragioni che mi legano a Sorrento, però, sono altre. Se Amalfi è stata un'amante occasionale, Sorrento è stata una compagna stabile per diversi anni della mia vita. Ci vivevo, quasi, e questo mi permetteva di scorgere nell'anima più profonda, ben lontana dal clamore e dal tramestio dei luoghi più battuti come Piazza Tasso o la villa comunale dal cui bel vedere che sormonta il porto, partono in fila gli sguardi affascinati dei turisti. La mia compagna dell'epoca viveva lì, in un bel parco quasi a ridosso del Corso Italia, che è la strada di tutti, turisti, paesani, visitatori del weekend che si spostavano in treno dai comuni limitrofi. C'era un posto di cui faccio fatica a parlare, perché vorrei tenerlo per me, ma peccherei d'egoismo. Si tratta di un tennis club, ma attenzione, non era come tutti gli altri. Per raggiungerlo bisognava prendere una stradina in salita, via Montariello, che si tirava dalla curva fra via degli Aranci e Corso Italia, inerpicandosi lungo la collina. La peculiarità di quel posto era la pizza. Il tennis club aveva un forno a legna in cui cuocevano ogni sera metri e metri di pizza. Si andava quindi a giocare sulla Terra Rossa e poi, spossati per la fatica e ristorati da una doccia fresca, si mangiava lì o, meglio ancora, ci si portava a casa nella quiete del proprio salotto cartoni fumanti di pizza appena sfornata. Era un'esperienza mistica. Per quanto l'immagine di Sorrento sia sempre associata a quella di Partenope, i ritmi e in generale la vita sorrentina sono antitetici rispetto a quelli del capoluogo campano. Le auto procedono con un'indolenza snervante per chi è abituato alle metropoli ma che alla fine segna il passo di un'esistenza molto più ragionevole. Spesso mi viene voglia di tornarci. Sarò riuscito a spiegare l'impossibilità di un racconto unitario su quello spartito dodecafonico che è la mia terra? Davvero? Non ho mai conosciuto nei lunghi perlegrinaggi in giro per l'Italia una regione più incoerente combattuta frammentata schizofrenica di quella in cui sono nato. Se è vero come diceva Oscar Wilde che solo le persone superficiali non giudicano dalle apparenze è pur vero che la campania offre apparenze nuove a ogni angolo e a ogni angolo ci si fa un'opinione diversa. Non è adatta la mia regione a chi non abbia voglia di ridiscutere se stesso ci si tiene in forma col tennis e ci si imbottisce di pizza si gira nei boschi a caccia di streghe si esce da scuola e ci si tuffa in mare. La mia convinzione e lo dico senza alcun campanilismo è che non esiste in tutto il mondo un fazzoletto di terra dove coesistano tutte queste meraviglie queste bizzarrie provate a metterle nella testa di un uomo e vedete che impazzirà la follia ad altronde può durare una vita o può durare un attimo quando un amico mi annuncia una vacanza in campania e mi domanda che giro devo fare la prima cosa che chiedo di riflesso è quanto tempo hai ed eccoci arrivati al punto ma che punto è quello dove siamo arrivati è forse il punto in cui a forza di spiegare ciò che non si può narrare ne ho raccontato almeno un pezzetto o un pezzetto un pezzetto un pezzetto Grazie a tutti